Devi studiare! Devi studiare! No! 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 Sveglia! Che succede? Mi devo iscrivere all'università e mi sento disorientato. Non riesco a dormire la notte perché non so cosa scegliere. Non farti prendere dal panico. L'Università Cattolica offre molte opportunità per aiutarti nella scelta della facoltà che fa per te. Incontri nelle scuole, saloni di orientamento, lezioni aperte, colloqui individuali, open day. Tutte occasioni in cui potrai incontrare docenti e laureati, scoprire i servizi dell'università e le opportunità che si aprono per il tuo futuro. Giurisprudenza è sempre stata una facoltà presente nei miei sogni. Com'è in Cattolica? La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica, fondata nel 1924, è tra le più autorevoli e prestigiose in Italia. Per la cura dedicata alla preparazione tecnica, culturale e umana. Per il riconosciuto livello della ricerca scientifica. Per la serietà degli insegnamenti impartiti. Per la capacità di riconoscere, stimolare e valorizzare il merito degli studenti. L'obiettivo della facoltà è formare professionisti che sappiano interpretare e applicare le regole del mondo in cui viviamo. Ma anche crearne di nuove, adeguate ad affrontare e risolvere i problemi di oggi. Mi spaventa un po' un mondo fatto di tecnicismi formali da imparare a memoria. La Facoltà di Giurisprudenza in Università Cattolica, al contrario, è molto di più. Dedica grande attenzione all'apertura dei futuri giuristi a un confronto interdisciplinare. Organizzando esperienze pratiche, confronti culturali, legal clinics, seminari con esperti nazionali e internazionali di elevata competenza scientifica e professionale. Trovi tutte le informazioni al riguardo sul sito dell'Università Cattolica all'indirizzo www.unicat.it La Facoltà di Giurisprudenza è presente nel Campus di Milano ed è articolata in due corsi di laurea a cui si accede secondo il semplice criterio cronologico di iscrizione.